Ciao a tutti e benvenuti nel canale Porcospino Curioso. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e mettere mi piace ai video per supportarci. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Il cinquantenario matrimoniale di Albano Carrisi e Romina Power non passa inosservato, alimentando i sogni dei telespettatori italiani. Nonostante il cantante sia attualmente impegnato con Loredana Lecciso. C'è chi sostiene che l'amore tra i due ex sposi non si sia mai spento. Sin dai loro primi incontri negli anni Sessanta sul set di un famoso musicarello cinematografico. Romina, figlia dell'attore hollywoodiano e sex symbol Tyrone Power. Incrocia il suo destino con Albano, un giovane della Puglia dotato di una voce magnetica. Da questa unione scaturisce una love story destinata a impazzire i rotocalchi, conquistando il cuore del pubblico non solo per la loro presenza scenica ma anche per la loro vita privata. La coppia, apparsa sempre perfetta e felice, è benedetta con quattro figli, Ilenia, Iari, Christelle e Romina Junior. Superano gli anni Settanta e entrano negli anni del consumismo mantenendo intatta l'immagine di coppia ideale, le foto di famiglia mostrano una prole numerosa e felice. Tuttavia, nel 1993, la tragedia colpisce la primogenita Ilenia, la cui scomparsa negli Stati Uniti rimane irrisolta, suscitando ancora oggi fascino e curiosità tra gli appassionati del mistero. La perdita causa un profondo strappo tra Romina e Albano. Mentre Romina non rinuncia a cercare la figlia, convinta della sua sopravvivenza, Albano, sconfitto dal dolore, è convinto della sua morte. Questa divergenza irreparabile porta alla separazione definitiva del duo. Romina, secondo quanto dichiarato da Albano, decide di porre fine al matrimonio, causando una grande sofferenza al cantante di Cellino San Marco, che è profondamente legato alla famiglia e ai valori tradizionali del sud Italia. Il tempo passa e Albano rifà la sua vita con la showgirl Loredana Lecciso, con la quale ha altri due figli, ma il passato continua a bussare alla porta quando Romina Power torna in Italia, dichiarando in varie interviste il loro amore immutabile. Queste dichiarazioni accendono le speranze del pubblico, nonostante le insistenze di Albano nel confermare il suo legame con Loredana. Nel frattempo, il duo ha riabbracciato il palcoscenico, lasciando alleggiare l'idea di un possibile ritorno di fiamma. Quest'anno ricorrono le loro nozze d'oro e il pubblico italiano attende con trepidazione ogni ulteriore sviluppo di questo intrigante triangolo amoroso. E tu cosa ne pensi dei festeggiamenti del loro cinquantesimo anniversario di matrimonio? Cosa ne pensi dell'indimenticabile love story tra Albano Carrisi e Romina Power e quali sono i tuoi ricordi più cari legati a questa straordinaria coppia? Lascia le tue risposte nei commenti e condividi questo video con altri appassionati di Romina e Albano. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale. Grazie Grazie